Blu cristallo Cos'è quel nobile suono? Quel dolce dipinto che osserva il mio io? Mi sfiora lo sguardo e... È quel rossore, quel profumo di rosa e fragranza di gesso. Con amore e calore, allontana quel male, mantenendo vitale quel raggio ancestrale. Cos'è questo nobile suono? Che forse è d'un tratto? Quel regalo ricordo che sfiora il mio sguardo e mi mostra la mano. Quel colore speciale che dona al mio volto musica e amore. È quel luogo perfetto, il paesaggio cantato, quel punto sognato, il percorso tanto atteso, nei miei scritti ideato. È la scia di quell'onda che vive ad ogni rintocco dalla penna di Afrodite.